Archiviata la buona prestazione di Fasano, il Brindisi è chiamato a tornare alle vittorie in casa con la Putiolana. I tre punti mancano ai biancazzurri dal match con la Fragolese. Era il 30 ottobre. Nelle settimane seguenti la squadra di Danucci ha conquistato un punto in tre partite. Gli appassionati ora attendono un'inversione di marcia da una squadra indicata dei più sin dall'inizio del torneo, tra le favorite per il salto di categoria. Il mercato di riparazione che aprirà ufficialmente il primo dicembre prossimo vedrà qualche uscita ormai quasi certa. Quella di Piazza e di Zampa. Ma se da una parte ci sono le uscite, il Brindisi è pronto alle entrate. Si parla di Liurni, attaccante del Picerno, di Pinna, difensore dell'Arezzo. Non c'è ancora certezza invece sull'arrivo di Daniele vantaggiato dal Livorno. Al di là delle voci di mercato, ora i biancazzurri devono concentrarsi solo sul match interno con la Putiolana, allenata da un grande ex come Campilongo. Un grande organico con una classifica bugiarda, quindi guai a pensare ad un compitino, Danucci per la gara con i campani dovrà rinunciare a danno a squalificato e Santoro ancora fermo ai box per un problema muscolare.